L'energia si racconta. Alle medie e nelle quarte e quinte elementari di Marche Toscana e Umbria torna Energicamente la scuola di sostenibilità di Estra e Liga Ambiente giunta alla dodicesima edizione. Anche Roar è online. Il progetto di educazione ambientale di Estra e Straligut Teatro per le prime tre classi delle elementari di Marche Toscana e Umbria è sulla stessa piattaforma di Energicamente. Due chilometri e cento metri è il nuovo gasdotto attivato da Centria alla società di distribuzione di Estra nel comune aretino di Monte San Savino che porta per ora il metano a 80 famiglie nella frazione di Bugiana. Estra con Centria ha attivato i primi sei chilometri sui 25 previsti per portare alla rete gas le famiglie della Piana Reatina, un investimento di 3,5 milioni di euro per metanizzare l'intera Piana. Grazie.